Anche il sindaco di Napoli e presidente del movimento DEMA Luigi De Magistris alla conferenza stampa nei pressi della discarica SIR di Villa Carmine a Monte Silvano. Hanno scelto un luogo simbolo, quale questa discarica, sito di interesse nazionale che vive in una situazione di emergenza perché deve essere bonificata l'associazione DEMA Nuova Pescara Brigata Maiella per una conferenza in cui, oltre a parlare dell'ecomostro che ormai hanno detto i promotori, rappresenta un simbolo come bussi e altri siti nella indifferenza delle istituzioni, non si è potuto non tornare sulle ultime vicende che hanno riguardato CSM ed Associazione Nazionale Magistrati. Uno schifo ha tagliato corto qualche giorno fa De Magistris ed è più difficile dire alle persone di denunciare. Io mi batterò fino alla morte, se dovesse essere necessario, per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Io sono convinto che nel nostro paese ci sono tanti magistrati autonomi e indipendenti bravi, competenti e coraggiosi. Quello che sta avvenendo fuori è un sistema che sta da tanti, tanti anni, ne parlò anche Paolo Borsellino pochi giorni prima di morire, ne ho parlato io quando ho pagato sulla mia pelle quel sistema, è un sistema che rivedo adesso all'opera con persone diverse, alcune anche le stesse, è un sistema che distrugge professionalmente certe volte i magistrati per bene, condiziona le carriere, inquina la democrazia, rischia di far collassare il paese da un punto di vista democratico. Io non so se questo sistema è in grado di autoriformarsi da solo, è fatto di commissioni tra politica e magistratura, tra politica e apparati di controllo, i magistrati che si riuniscono insieme alla politica per decidere chi deve fare il procuratore, poi dicono se faccio il procuratore in sabbia o quell'inchiesta, ma questo è davvero eversivo, quel sistema l'ho visto sulla mia pelle, l'ho denunciato e andava dal Presidente della Repubblica, Consiglio Superiore della Magistratura, magistrati, apparati repressivi dello Stato, è un cancro, se non lo si cura diventa metastasi e c'è il collasso democratico, se invece si vuole avere la forza di far prevalere il bene che c'è nelle istituzioni, io per questo sono rimasto nelle istituzioni, perché per lo schifo che ho visto mi dovevo mettere a fare il pensatore, il narratore, il pescatore, l'agricoltore, rimangono nelle istituzioni perché sono convinto che la gente per bene c'è, però ci vuole anche una ribellione delle coscienze, una rivoluzione culturale. Oggi De Magistris partecipa a un incontro in Comune a Pescara, mentre domani sarà a Lanciano per lanciare questo movimento. Stiamo facendo partire questa realtà di DEMA, democrazia e autonomia, abbiamo voluto intitolare la nostra agora alla brigata Maiella, la nostra famosa brigata partigiana, perché il nostro obiettivo è quello di Luigi De Magistris, del movimento tutto e assolutamente l'attuazione della Costituzione.